ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video nella sfida scorsa c'era la polizia nelle calcagne ora dobbiamo liberarsi di lei quindi andiamo a liberarsi sto cercando di superarlo, si araventa vi avviso oh si sta ponendo su sedia oh si è macchina dietro, guardiamo quanto ne ho fatto nooo, non sono fatta prendere il cono dorato vediamo se ci siamo a liberarsi dalla polizia adesso c'è oh quasi si è, mi ha preso non si è fermato, torna su di noi abbiamo perso un peso, i ragazzi avranno bisogno d'aiuto vediamo che troppo la ferma non l'ho vista però questa volta si è preso sul serio abbiamo potuto essere macchina dietro mettiamo se siamo a non è come la solita la polizia è più resistente un blocco stradale adesso abbiamo fatto a sopravlo prendiamo la sambella e se abbiamo fatto anche questa volta non è sempre così andiamo da quell'azzo qua andiamo a sinistra se la macchina è qui andiamo indietro la macchina è più si accadrante a destra godiamo di di bass non andare proprio adesso si prova a dannare un po' di tempo andiamo a sinistra non si vede e se l'abbiamo fatta siamo positi dalla polizia questa volta è stata veramente più dura sono molto più ostinati bene possiamo questa guerra dato che abbiamo ancora un po' di tempo se è solo in giro se è solo in giro se sprediamo di passare la prima volta lì che colpa è solo in giro non scantate in verità se è tutto prima perfetto abbiamo vinto abbiamo sbloccato spoiler kit di livello 2 questa partita è stata molto facile però per questo video è tutto grazie per avermi seguito mettete un bel pollizio in su se vi è piaciuto scrivete nei commenti che parte è che vi è piaciuto di più e arrivederci al prossimo video ciao ciao